Nella giornata di ieri si svolta una conferenza stampa con i sindaci di Acquiterme, Ovada e Predosa insieme ai tecnici Slala in merito all'iter di progettazione del casello di Predosa. Obiettivo avviare le procedure burocratiche entro un anno. Un percorso ambizioso che non riguarda solamente Predosa ma anche altre realtà territoriali con la finalità di accelerare e incrementare lo sviluppo infrastrutturale e logistico del nord-ovest. Abbiamo inviato una delibera a ogni sindaco interessato per esprimere la loro volontà in merito al nostro intento, ha dichiarato Lorenzo Lucchini, sindaco di Acquiterme. Con loro stiamo ragionando su un piano d'area di mobilità sostenibile, un tema che stiamo portando a livello istituzionale più alto, condividendolo con altri comuni come per esempio Asti. Interpelleremo anche il sindaco di Nizza Monferrato, la provincia di Alessandria e quella di Asti. L'idea iniziale del casello risale a decenni fa, ha dichiarato Maura Pastorino, sindaco di Predosa. Poi nel 2007 è stato predisposto uno studio di fattibilità. È necessario intraprendere azioni concrete per lo sviluppo dei territori e il nostro compito da sindaci è lavorare per il futuro. Il casello di Predosa è un'infrastruttura necessaria, ha dichiarato Paolo Lantero, sindaco di Ovada, e lo è per molti motivi. Registriamo infatti un aumento di traffico pesante che riguarda in particolare Ovada e le sue zone industriali. Pensiamo ad esempio alla Saiba. Angelo Marinoni dalla Fondazione Slala ha dichiarato Stiamo cercando di coordinare gli sforzi raccogliendo le istanze dei territori per costruire qualcosa di positivo. Nel casello si vedono tutte le potenzialità espresse dai sindaci. È chiaro che il fattore principale che deve avere un territorio per essere appetibile è l'accessibilità. Il casello rientrerebbe anche negli investimenti fatti per rendere anche la A26 più funzionale e utile alla nostra area. Ha preso poi la parola Nicola Bassi, ingegnere Fondazione Slala e UIRNET. Le prospettive del nord-ovest sono quelle di un ampio sviluppo logistico, figlio degli effetti del decreto Genova. Uno sviluppo importante per facilitare e velocizzare l'attività dei porti di Genova e Savona. L'obiettivo è quello di più che raddoppiare il transito di contenitori sul capoluogo Ligure. Questo aumenterebbe notevolmente l'importo per le tasse erariali. Parliamo di un gettito fiscale di miliardi di euro. C'è poi un discorso di crescita economica per i territori che ospitano queste infrastrutture, che sono concentratori di merce attorno ai quali si creano condizioni per l'apertura e la lavorazione dei contenitori. Si creerebbe quindi un indotto molto importante. Per far sì che questo si verifichi c'è bisogno di una grande disponibilità da parte dei territori. Il casello di Predosa sarebbe un ottimo esempio, così come lo sarebbe il nuovo hub ferroviario di Alessandria.